...che sono benvenuti al tavolo della presidenza del Vesamello, più non del Vesamello. ...che mi sarebbe in regolazione perchè sono stati anche in regolamento agli diversi stadi. ...e tu, due minuti al consigliere del Vesamello e due minuti al consigliere del funcio della Natera Vesamello. ...vabbè, ma che vedi la Natera Vesamello? ...e tu...e 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 tu... ...vi prego di chiedere...cioè, di ehm... ...di considerare che la Natera Vesamello è scomentata, proprio per... ...per l'amore della verità e anche rispetto a quello che diceva il Vesamello, perché... ...uno ha linee in questa città, figli, no? Quante città uno lo lascia... ...io non a caso ho iniziato questo evento caratterizzandolo criticamente, perché... ...il centro-destra ha appassionato questa legge... ...la lezione campagna del centro-destra l'ha attuata, tant'è vero che il Partito Democratico è stato... ...veloce nel contrastare questa legge regionale, addirittura... ...aveva sveluto il popolo della libertà e il Partito del Cemento, quindi... ...è giusto che il Partito Democratico anche a Casoria abbia questo... ...atteggiamento... ...diciamo... ...abbastanza... ...contrato... ...però la cosa che volevo... ...no, la cosa che volevo... ...no, a Casoria c'è una peculiarità, caro consiglio... ...però vi voglio dire una cosa... ...noi parliamo di... ...di moralità, parliamo di... ...c'è mio futuro... ...no, tutti qua ci preoccupiamo di Casoria... ...quando... ...iei... ...iei... ...questa città è stata maggioriata... ...però credete che la resta è la verità... ...quelo che io dicevo... ...esta mattina è proprio che io... ...voglio... ...contrattarlo... ...però... ...io... ...ritengo di essere opposizione... ...però che anche in quei leghi... ...eh... ...sottoscritti altri quelli... ...non facevano dei consigli comunali... ...non... ...erano parte... ...integrante della Mila Polizia... ...ma solo in quei... ...è stata... ...una soliata... ...questa città del centro-sinistra... ...dove il Partito Democratico... ...e tante altre che... ...erano a questo stato... ...dove anche qualche nuovo... ...operto esponente... ...in situazione morale... ...dove la sigla... ...de questa città... ...ha consentito... ...le legislazioni... ...convenzione... ...un altro sceglio... ...che in questo... ...questa... ...ve lo dico... ...presenta... ...non so se qualcuno di cui... ...era consigliere... ...però che sta... ...non lo so... ...quindi... ...non... ...e... ...allora quindi va... ...va detto... ...che... ...in questo momento storico... ...cazzone c'è una grande... ...che in questo momento... ...che in questo momento... ...la posizione... ...questa... ...maggioranza... ...ma io... ...lo sempre... ...so sempre... ...noi incanteremo... ...questa maggioranza... ...la nostra... ...la nostra... ...la nostra... ...la nostra... ...ma sociale politica... ...le nostre... ...obviamente proposte... ...alternative... ...obviamente... ...concorrentive... ...agli altri... ...i loro porteranno... ...e... ...ma... ...verso... ...e ci troviamo... ...la posizione... ...sima... ...ma faccio una distinzione... ...che in questa città... ...il centro-sinistra... ...il partido democratico... ...è responsabile... ...o per esempio... ...e... ...essere... ...nesso... ...esitore... ...useppe... ...il partido democratico... ...è responsabile... ...quando ha... ...primmi... ...se è a Piazzonia... ...o ci ci troviamo in questo caso... ...ella solo per essere... ...per essere chiaro... ...e per... ...la pure di la verità... ...grazie... Grazie a tutti.